Per Italia Viva la sua agenda è la nostra agenda, la sua visione è quella che mancava e quella che noi siamo felici di poter misurare in queste ore. Come avrà visto, Presidente, non abbiamo un territorio da marcare o richieste specifiche da farle, non creiamo intergruppi, non ci sono distingo da parte nostra, perché per quanto ci riguarda quello che pensavamo fosse la migliore soluzione per il Paese in un momento così delicato l'abbiamo ottenuta. Sì, forse l'abbiamo anche promossa, per questo siamo stati anche insultati. Da ultimo ieri abbiamo saputo e sentito dire da persone che quantomeno dovevano esserci amiche che Renzi è una metastasi. Siamo arrivati a questo, Presidente, ci siamo arrivati con il paradosso che mentre nella politica continuano ad arrivare insulti e minacce, il suo governo vola e lo spread precipita. E forse qualcuno potrebbe interrogarsi o forse spingersi a capire che era proprio arrivato il momento di un cambio di passo. Ma noi siamo ottimisti, fiduciosi e pronti al grande lavoro che ci aspetta. Pensiamo di avere per farlo la migliore guida possibile.